Sì, sono Piero Tuzzo, responsabile di S.T. Sisili, un'azienda nuova che si occupa sia di turismo che di sviluppo, di internazionizzazione di impresa. Quello che abbiamo fatto praticamente, abbiamo iniziato un paio di anni fa, quello che abbiamo fatto quest'anno è quello di creare una sinergia tra l'università straniere e le aziende locali al fine di aiutare le università straniere a inserire e formare i studenti qui in loco, le aziende invece locali a sviluppare il loro business all'estero, il tutto condito da un territorio che si presta molto bene un'esperienza di stage. Questo progetto l'abbiamo nominato InterShip Summer Camp per distinguerlo dal Winter Camp che su cui lavoreremo praticamente e partirà praticamente a novembre. Quindi i vantaggi per le aziende? I vantaggi per le aziende ovviamente sono quelli di, siccome il progetto ha un taglio di sviluppo commerciale, è proprio quello praticamente di avere al loro interno delle persone a costi diciamo anche bassi al fine praticamente di sviluppare il mercato all'estero quindi lavori eventualmente di traduzioni, considerando che i studenti parlano almeno tre o quattro lingue straniere, francese, inglese, spagnolo, tedesco. Quali sono le aziende coinvolte? Le aziende che quest'anno abbiamo coinvolto sono il Marina Holides di Balestrata, l'STC Seri in primis come azienda capofila, il Marina di Balestrata e l'azienda aeroportuale, Jumbo Viaggi Rent Car, Adragna Pet Food di Alcamo, Lorenzo Curcuno Immobiliare di Balestrata. E' proprio attesimo il fatto che l'iniziativa non è focalizzata solo sul turismo ma il taglio commerciale può essere utilizzato in diversi aziende e diversi settori. Avete avuto parecchie richieste di ragazzi ma problemi per poterli comunque inserire? In realtà ci avvaliamo della possibilità, siccome siamo gli unici in questo momento a fare questa iniziativa, ci avvaliamo anche della possibilità di scegliere. Quindi abbiamo avuto 170 richieste e abbiamo preso soltanto 30 studenti. Non abbiamo fino adesso trovato interessanti aziende su cui sviluppare questi progetti perché l'idea è quella di non coinvolgere tutte le aziende della Sicilia ma mantenerci praticamente nel golfo, quindi nel raggio di 10-30 km massimo, in modo tale da massimizzare l'esperienza praticamente degli studenti e minimizzare quindi anche gli spostamenti. Sindaco, a Balestrate un flusso turistico per studenti, studenti che vengono dall'estero per imparare diversi mestieri nel campo della ristorazione, all'interno degli alberghi, quindi Balestrate offre un bello incentivo a questi ragazzi. Sì, diciamo si dà continuità anche ad alcuni progetti portati avanti negli anni nel campo degli scambi culturali, delle opportunità fornite dai progetti di mobilità, soprattutto quell'Erasmus. Oggi grazie all'iniziativa di STC, di un privato e alla collaborazione che è riuscita a creare con le università sia siciliane che estere, ospiteremo per i prossimi mesi a Balestrate oltre 30 studenti universitari francesi che faranno appunto degli stagi qui a Balestrate all'interno di strutture ricettive e ristorative e comunque legate nell'ambito turistico che non può fare altro che accrescere le esperienze e le opportunità e per le nostre attività ma anche ovviamente per i ragazzi perché gli scambi sono molto formativi soprattutto per la crescita personale e anche aziendale. Quindi anche diverse le iniziative in itinere. Sì, tra l'altro arriveranno in un momento favorevole, propizio per la nostra comunità, per il nostro territorio. Ci saranno diverse iniziative legate al turismo in questi mesi dove questi ragazzi verranno coinvolti. La prima è il giorno 11 di maggio per la Sagra della Seppia organizzata dall'Associazione Terzo Millennio e il giorno 19 maggio la regata della legalità organizzata dalla Marina di Balestrate insieme al centro velico di Balestrate che partirà da Palermo e arriverà appunto a Balestrate e poi a fine giugno con la festa di San Pietro che è un po' la festa di apertura dell'estate ma l'estate, come potete ben vedere, è già aperta, è già avviata, i lidi sono montati, le spiagge sono cominciate ad essere pulite quindi la stagione estiva è già partita.